Cesare Cremonini con Giovane e Stupida alle 7.34 minuti, viene facile il gancio però perché non è né giovane né stupida mi viene da dire, quindi no no, non è né giovane né stupida la nostra ospite che viene dopo, ciò che viene adesso. Gli eventi della settimana a cui io non andrei. Buongiorno Eribi, ben arrivata. Buongiorno, buongiorno, pensavo che il gancio fosse facile perché io sono giovane e anche un po' stupida. No, invece no, mi spiace dirti che non sei così giovane ma sicuramente non sei stupida. Scusate, adesso facciamo un sondaggio, uno ha 40 anni, non è giovane? Eh, no, secondo me no, non più. Parliamo con quelli che ne hanno 70 allora. Quelli sono anziani. Eh, vabbè, 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 si vede che insomma chiunque della tua famiglia passa bene gli anni e non vive male questo fatto dell'anzianità. Io faccio delle battaglie pazzesche con l'unica anziana che ho in casa che non accetta il fatto di essere anziana. Parliamo della signora Ida. Esatto, che tanto non ci ascolterà mai. Stai addormendo a quest'ora sicuramente. Esatto, esatto. Buongiorno, grazie mille per avermi invitata anche oggi che è un giorno di ferie per me. Quindi io mi sono svegliata allo stesso orario che delle solite mattine per andare a lavorare. Bene, ma questo è il tuo lavoro importante del venerdì. Dove ci porti questa settimana? Allora, intanto ho trovato tante cose differenti e questa cosa mi piace perché vuol dire che la città è in fermento, è in fermento. Tra l'altro tutti fanno il ponte. Io devo dire la verità che ieri ho apprezzato tantissimo che sono andata a fare la spesa. So che non si dovrebbe nei giorni festivi perché quei poveri Cristino dovrebbero stare a casa e non andare a lavorare. Però è stato molto bello perché non c'è nessuno. Benissimo. Ok, niente, andiamo avanti. Come notizie utili su come gestire al meglio la città. Allora, intanto vi dico questa cosa che a Gaggiano, da ieri fino al 28 di aprile, poi andatevelo a cercare sul sito del Comune di Gaggiano, c'è la mostra mercato fiori e arte lungo il naviglio. Che bello. Che no. Soprattutto con le previsioni meteo che stanno per arrivare, che insomma pare che arrivino giù ancora centimetri di acqua. Millimetri. Millimetri, forse millimetri. Comunque divertitevi e andate. Tanti millimetri fanno un centimetro poi, effettivamente. Esatto, va bene comunque. O centilitri, buono. Dipende, puoi calcolarli sia in liquido che in altezza, si fa così. Domanda, a Gaggiano? A Gaggiano. Sai che c'è anche domenica il mercatone. Sì, ma la cosa che mi ha... Torna il mercatone. Ma in che senso? Torna una volta al mese. No, si era fermato per il periodo invernale. Ah, eccola la... Perché ho letto tanti articoli di torna il mercatone sul Naviglio. Quindi domenica se volete potete farvi Gaggiano. Spararvi e andare. Ma no, poi prendere proprio il Naviglio, farvi portare dalla corrente del Naviglio verso Milano. Sai come si dice? Eh. Venire giù con la piena. Ecco, benissimo. E arrivare in Darsena e passare poi quindi dal Naviglio Grande, dove c'è appunto l'associazione Naviglio Grande che organizza il famoso mercatone antico agro. Che già è da sempre per sempre. Sì, sì, no, credo si è fermato solo per il periodo invernale. Ecco, io non capivo perché era tornato. Grazie per avermelo detto. Comunque, poi c'è una roba a cui io sicuramente non andrò perché c'è una parola dentro che non mi piace, ma non mi è mai piaciuta neanche da bambina. Cioè, spettacoli di circo e street food a pochi passi da Milano. Dal 26 al 28 di aprile è gratis a San Donato milanese. Via Unico-Poasco, vi ho dato bene anche la via stavolta. Al paese della nostra producer. Auguri ai figli maschi. Eh sì, Elisa di Poasco. Cioè, oggi dalle 17 alle 24, sabato dalle 12 alle 24, ma attenzione domenica è dalle 12 alle 23 e 30. Eh, devo non fermire un po' prima. Ma perché il circo? Non lo so, chiediamola. Elisa, raccontaci poi lunedì come è stato il circo a Poasco, va bene? Cioè, che poi io non ho niente a che... cioè, mi spiace, non sarà sicuramente un circo con gli animali, che è sicuramente la cosa sbagliata. Ma sai, ci sono quelli con le palline, quelli che a me non piace. No, poveretti, io ti ho affatto di male. Niente, però fa niente. Ok. Poi c'è, non so per quanto tempo, ma se vuoi tu sei uno smanettone e lo riesci a fare, a Palazzo Reale c'è la mostra di Dolce Gabbana. Che solitamente queste cose vengono fatte quando le persone sono... cioè, il protagonista è morto. Mi sembra strano farla in presenza. Dura tantissimo. A me ne ho tempo fino al 31 luglio. Esatto. Ma il sottotitolo è Artigianato, Arti Visive, Architettura, Innovazione e Teatro. Cioè, buttiamoci dentro tutto, dai. Una lettera d'amore aperta alla cultura italiana. Ispirazione dello spirito di Dolce Gabbana sin dalle sue origini. A ripercorrere lo straordinario processo creativo di Domenico Dolce e Stefano Gabbana dal cuore da cui scatturiscono le idee alle mani, strumento attraverso cui prendono forma. Aiuto. Questa è l'introduzione che c'è sul sito di Palazzo Reale. Sì, vedi che dovevano tirar su qualche... sicuramente non sarà gratis. Ma non credo che tirano sui soldi loro, dai. Boh, comunque è una roba strana, non è una roba strana una mostra di gente di moda ancora in vita. No, vabbè, no, ci sono stati anche Armani, l'ha fatta qualche anno fa, credo, se non ricordo male. Boh, lo so, però è già dopo fare quello che vuole. Se vuoi ti dico i prezzi dei biglietti, lo sai. Dai, sì, no, voglio saperlo. Allora, il ridotto è 13. Porca miseria. L'intero 15. L'open, che non so cosa voglio dire, forse puoi tornare più volte. Ah, beh, 17, come viene a fare l'open allora? Boh, sì, per andare a vedere questi. Ah, sì, biglietto open, eccolo qua. Poi, 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 poi. Poi, un'altra cosa che mi fa sempre un po' sorridere, ma questa cosa magari ha molti... Ah, se lo compri però dal web sono 19 euro. Urpa, voi. Perché c'è la pre vendita. Beh, insomma, raga, pensateci bene. Se dovete andare... Quello open, eh, quello open. Se dovete andare, andate direttamente in biglietteria a comprare biglietti, perché tanto c'è un rincaro per tutti, se no. Vabbè, comunque, mi piacerebbe sapere chi va a vedere queste cose. Oh, è interessante, se non me la posso dirti. Vuoi andarci? Ah, adesso vedo, diamo l'accredito. Ah, vedi, ah, 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 c'è sempre la magagnetta dell'accredito però, cosa che noi poveri gente non giornalista non possiamo avere. Comunque, un altro evento molto interessante, è sabato 27 e domenica 28, dalle 10.30 alle 18 a Cinisello, si chiama così. Corso di formazione, due punti, autoipnosi regressiva con sogno lucido. Fanno delle psicoterapeuti, eh, vi dico questo. L'autoipnosi, cioè ti ipnotizzi da solo? Sì. E la macchina che ti sveglia? Boh, tu ti ti dirai dei pizzicotti, ti insegneranno a tirarti dei pizzicotti. È il sogno lucido. È il sogno lucido. Lucido. Lucido, lucido. Ti piacerebbe fare una cosa? No, mi fa un po' paura, anzi. Allora, a me fa, cioè mi fa strano, ma mi piacerebbe capire, appunto, uno, come ti risvegli da solo, e due, la finalità di questa cosa. Forse a un punto devi andare in bagno e ti svegli per forza, cioè, come dire, così, non so, ti viene in fame e ti svegli. Ecco, sempre bisogni primari. Eh beh, sì, secondo me gioca su quello, scusa, è l'unica cosa che può... L'ultimo evento, so che voi vorreste che io andassi avanti tutto il giorno a leggere gli eventi e a dare le mie opinioni, ma purtroppo non è così perché anch'io ho una vita. Non so dove l'hai letto questa cosa, ma va bene, sì. È su... scusa? No, questa cosa che ti vorremmo qui tutto il giorno. Sì, io ne sono convinta perché ho dei fan. Ah, ok. Tu non lo sai, ma ho dei fan che scrivono direttamente a me. Ma andati, scrivete invece al 33178535555. Ce n'è uno che sicuramente a te piace, è già iniziato, eh, dal 2 aprile però fino al 31-12 a Paderno Duniano, quindi sono un po' uscita dalla città, dal grande regno. Laboratori Poetici, Arte Terapia e Libro Terapia. Questo è proprio il tuo. Sì, sì, sicuro. Io se c'è una cosa al mondo che detesto sono i laboratori poetici. Ecco, va bene. Sono arrivati un po' di messaggi, comunque. Ah, che dicono stai zitta. No, che dicono per l'apertura... Ci scrive Marilena, al 33178535555, dice per l'apertura della mostra Dolce Gabbana. C'è stato un red carpet qualche settimana fa, perché è dal 7 che è aperta. Ok. Si è arrivata adesso. Comunque, c'era chiunque. Comunque sono curiosa e ci andrò. Vi farò sapere. Vedi. Buongiorno a tutti e buon lavoro a chi sfigata come me oggi lavora. Questo ci scrive Marilena. Ma sono più sfigata io che non lavora e alle 7.43 sto qua parlando con voi. Ecco, e Alberto invece scrive, to, guarda, un'altra persona a cui non piace il circo, ce la contè, no? Ah, sì. Come mia sorella che al circo piangeva, dovevamo uscire così anche mia nipote. Sai che, caro Alberto, questa cosa purtroppo è successa anche a me nell'unica volta in cui mia madre mi ha portata al circo. Mi sono spaventata subito degli animali. Cioè, i piante. O piante, siamo dovuti uscire. Poi dopo mi hanno riconvinta e sono rientrata. Però vabbè, io piangevo sempre da piccola. Dì anche cosa facevi da piccola quando piangevi. Ah, sì. Ma penso che sia una cosa comune. No, 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 non è comune. Ah, in realtà neanche da piccola. Se mi capita ancora adesso, lo faccio. Ecco, non lo sapevo. Adesso uso anche lo smartphone. Perché? Spiega cosa facevi? Quando piangevo andavo davanti allo specchio. Per vederti piangere? Sì. Sicuramente al circo questa cosa non è possibile. Non è una cosa che succede a tutti. Ma secondo me sì. No, no, secondo te, ma non è una cosa che succede a tutti. Comunque sono molto contenta di essere stata qui questa mattina. Spero di venire anche la prossima settimana. Sì, vabbè, sei sempre qua al venerdito. Non è vero perché purtroppo a volte ho degli impegni e non posso. Ah, ok, va bene. Sia per scelta tua, infatti, non per scelta nostra. Ma chi può dirlo. Va bene. Comunque questi sono gli eventi della settimana a cui io non andrei. A cui io non andrei. Chissà se ce n'avete voi fatecelo sapere al 331-78-53-555. Ciao, ciao. Avanti con un po' di musica. Grazie mille, Ribi. Ciao, ciao. Ciao. Grazie.